Dare risposte al mondo del lavoro sia dal punto di vista tecnico normativo sia da quello etico, sociale e innovativo. Questi gli obiettivi della seconda edizione di Cambiamenti Work Festival, un ciclo di conferenze, mostre, workshop e performance musicali organizzata da ConfCommercio, imprese per l'Italia, la Spezia e patrocinata dal Comune di Monterosso che si svolgerà proprio a Monterosso il prossimo 25 e 26 marzo. ConfCommercio ha l'ambizione di essere qualcosa di più che una semplice organizzazione di imprese ma qualcosa che vuole essere di appoggio alle imprese, di aiuto anche a 360 gradi quindi non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista sociale, dei rapporti, delle interazioni che ci possono essere fra imprese, dipendenti, lavoratori, la società, tutto l'essere civile, gli enti eccetera. L'ambizione di ConfCommercio è proprio quella di porsi in un quadro molto più ampio che vede chiaramente per noi le imprese al centro ma al centro di un discorso molto più importante che oggi sta diventando sempre più fondamentale e questo evento va proprio in questa direzione. Sul presupposto che per cambiare occorre costruire solide radici su valori condivisi parteciperanno alla due giorni enti, associazioni e agenzie di quanti operano nel mondo del lavoro. Saranno promosse conferenze open day, laboratori aventi per finalità, la conoscenza, la creazione di reti e di servizi, la crescita della persona, delle relazioni e dell'ambiente attraverso il lavoro. Non mancheranno iniziative artistiche come la mostra fotografica di Enrico Amici, i luoghi e i volti del lavoro, musica, concerti e la proiezione del docufilm di Simone Cristicchi alla ricerca della felicità. Questa edizione è stata fatta proprio sulla volontà di tutte le persone che avevano partecipato che proprio ci hanno chiesto questa seconda edizione. Diciamo che con questa seconda edizione vogliamo innanzitutto, come è stata per la prima, partire da dei bisogni concreti di quelli che sono i propri bisogni delle nostre aziende del territorio e in questo periodo senz'altro il bisogno del lavoro stagionale e la scelta di Monterosso è stata proprio scelta non a caso, proprio perché le aziende stagionali stanno ripartendo, hanno bisogno di personale e si trovano a dover proteggiare i problemi proprio derivanti dalla ricerca e dal reperimento di nuove professionalità che al momento è sempre più difficile recuperare. Partiamo quindi da questa esigenza, dal lavoro stagionale, per poi parlare di lavoro a tutto tondo proprio perché è per dare proprio importanza, diciamo far sì che il lavoro torni al centro così come è stato voluto dai nostri padri costituenti e così come per creare ora le basi proprio per una società migliore.